La primavera del Comitato Qualità della Vita è il progetto del Comitato Omonimo che si snoderà con diverse tematiche nei mesi di marzo, aprile e maggio prossimi, tra storia, valori e tradizione. In programma la giornata europea e nazionale dei giusti, l'anniversario Unità d'Italia, il progetto elaborato dal gruppo di studio coordinato dalle dottoresse Antonella De Marco e Maria Rosaria Piccini, cittadini, si diventa la preparazione del corso tradizionale I Giovani e i Riti della Settimana Santa, infine Millennio e Agorà, Taranto del Millennio col presidente Giuseppe Saragat, presentazione da parte del professor Aldo Perrone del testo di Cesare Brandi. Prima di tutto vogliamo coinvolgere non solo gli studenti ma tutte le realtà territoriali a sostenere con forza l'autonomia dell'Università di Taranto. Un percorso triennale che fa riferimento al cantiere Taranto, un percorso che ovviamente non può che essere incentrato sulla ricerca, per cui un coordinamento fra il centro ricerca delle malattie del lavoro, che è postulato dal prossimo decreto, il Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia e il Tecnopolo del Mediterraneo devono sostenere ovviamente questo progetto dell'autonomia dell'Università di Taranto che può essere la chiave di volta non solo della rinascita del nostro territorio ma anche, oserei dire, di una nuova strategia nell'ambito del sistema universitario pugliese. Grazie a tutti!